Gli insegnanti madrelingua vi dedicheranno ore preziose del suo tempo per incontri personalizzati di conversazione. Il libro è sul tavolo. Apri la finestra. Il mio nome è sul tavolo. Ciao, testina. Il Pierluca è sul tavolo. Lo prendo sul tavolo. Sono previste, pensate, 72 ore di comportamento e stile milanese. E allora, non perdete tempo, iscrivetevi subito all'Istituto Sant'Ambrosio. Solo così diventerete di Milano e potrete dire finalmente anche voi... Buon figlio! Istituto Sant'Ambrosio, l'unica scuola per diventare di Milano.